E io li rimprovero a tutti quanti, no? Perché sono... Vabbè, se lo fai su un ritornello, lo finale ha un'epocazione di 3 mesi Eh, capito? In questo caso è proprio... È un'escalation E' un'altra cosa, dai E invece proprio questa canzone che mi è stata richiesta ha questi difetti Anche di queste ricche colte attente vorrebbe fra in te Il gioco è stato questo La frase melodica è una soltanto e allora mi sono posto il problema di rifare la stessa frase melodica in diverse tonalità Ci sono anche riuscite, però... Questa è la prova La prima variante di questa canzone era soltanto in una tonalità molto alta e siccome nel frattempo la voce si è un po' abbassata ma soprattutto un grande stimatore di musica leggera mi ha detto a me, ma perché devi sempre strillare? E allora l'ho fatta partire dal basso C'è questa? C'è questa? Vabbè, guarda... C'è questa? C'è questa? Che dì? Sono arrivato tardi per la festa perché ho passata una storia strana M'è capitata veramente questa? C'è questa? D'essere un vestito C'è questa? C'è questa? C'è questa? C'è questa? Bia C'è questa? La mia Ma l'inferno è paradiso, dice la gente, io ci sono stato ancora davvero un canto. E mi sono alzato in un volo lentamente, come sognavo io, da ragazzino. E il sogno lo facevo di solente, spiccavo il volo dall'interrazzino. Vuoltavo in mezzo all'aria trasparente, un braccio, un altro e gambe, effiato fino. Non c'eva avuto tanto per volare, già lo sapevo fa' quando ero al bar. Già lo sapevo fa' quando ero al bar. Questo era fuori programma, eh? È una cosa così. è così